L'autorità, un lavoro, l'amore, poi è svanito tutto? Poi si è svanito tutto, in una mattina di tre più anni fa mi sono svegliata e da un occhio non ci vedevo più, lì subito allarmismo più totale, ma con poche ore la cosa era rientrata, quindi per 4-5 giorni sembrava che tutto era un brutto ricordo e la vita era ripartita come prima, poi passati 4 giorni, tac, ritorno al problema e non è più rientrato questo problema, subito grosso allarmismo nella famiglia, cosa sarà, cosa non sarà, subito risonanza magnetica, pagamento per fare il prima possibile e già lì si erano evidenziate diverse macchie a livello cerebrale. La diagnosi è stata quasi subito palese in questo caso, perché comunque la malattia era già abbastanza in corso, le lesioni erano già in diversi punti, sclergi multipla, subito. Il calvario poi è stato lungo, io in prima battuta ero in cuore a Pesaro, dopo diversi mesi che ero in cuore a Pesaro mi hanno detto guarda tu sai nella tua fortuna è una forma di sclergi comunque molto aggressiva e molto veloce, sei un ragazzo giovane, 27 anni, noi ti consigliamo di andare in un centro, diciamo un centro masto di sclerosi in Italia e mi hanno consigliato San Raffaele di Milano. Subito è lassù, è arrivato là, mi hanno ricoverato per due mesi per fare subito delle cure e degli approcci più veloci possibili e lassù ha incominciato a raccontare la mia storia. Ho resettato tutto il mio passato da fotomodello, da comparse in televisione e tutto e ho cominciato a raccontare un nuovo Ivan, un nuovo Ivan che è nato, hai incominciato a raccontarci dall'ospedale, no? Ho incominciato a raccontarmi dal 25 dicembre natale. Ma che cosa ti ha dato la forza di lottare? La forza di lottare Simo è stata questa, che a 27 anni non ti puoi permettere di farti portare via i sogni. Io ho ancora tante cose da realizzare e tante cose che voglio fare e di certo non è la malattia che mi porrà il limite di non realizzare questi sogni. Un sogno però che si è avverato proprio sabato notte? Un sogno che si è avverato, guarda, proprio tutti i miei sogni si sono avverati in quella fantastica notte del 26 settembre che è in Montemazzore. In quella notte sono diventato papà, sono tornato a camminare e sono guarito. Dici che grave è smettere di lottare. Che cosa ti senti di consigliare a chi invece in questo momento sta passando un periodo non facile e che pensa di arrendersi? Ma questa guarda è la più grossa cavolate che possiamo far arrenderci, perché la vita ne abbiamo solo una e ogni giorno, anche se dovessimo condurla seduti o sdraiati, noi dobbiamo viverla ogni giorno. E tu sei anche diventato testimonial nazionale per AISM? Sì, io sono diventato testimonial AISM nazionale e adesso dal periodo di novembre e dicembre mi vedrete recapitare nelle vostre cassette delle poste con questo cartoncino di pubblicità per AISM. E possiamo dire anche che stai indossando degli accessori, degli indumenti proprio sempre a favore di AISM? Sì, sto usando degli indumenti di un mio carissimo amico che sono il suo testimonial e tutto quello che potrà portare da questo vedere questi indumenti andrà tutto in beneficenza. Non esiste oceano che non possa essere superato, è una frase a te molto cara? Sì, è la mia frase con la quale mi sono approcciato al mondo quando ho cominciato a raccontarmi ed è anche lo slogan della mia maglietta per finanziare il mio progetto di aiuto alle famiglie nell'entroterra. Che cosa ti auguri per il futuro? Guarda, io più che altro mi auguro di godermi mia figlia il più tempo possibile. Hai trovato anche una mamma davvero speciale? Ho trovato una donna fantastica e secondo me lei è la vera eroina fra tutti noi perché lei che ha accettato la mia malattia è una persona che comunque c'è sempre stato anche nel momento che cado per terra o che mi devo pulire. È una cosa molto rara da trovare oggi una persona che accetti questo. Hai organizzato diversi spettacoli con la collaborazione di tantissime persone con un obiettivo ben chiaro? Sì, un obiettivo ben chiaro perché comunque questa è una malattia molto costosa, una malattia che non trascina solo me in questo vorce ma trascina anche tutta la famiglia e tante persone anche intorno alla famiglia. Quindi io con tutte le mie iniziative, spettacoli, teatrali come tu ricordavi e tante altre cose che faccio, voglio creare questo centro di, non di accoglienza ma un centro di supporto per le famiglie che comunque si trovano ad affrontare le grandissime spese e i grandissimi viaggi che noi portiamo a seguito e quindi aiutate, 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 c'è bisogno anche del vostro aiuto. E mai smettere di lottare? Mai smettere di lottare, quella è la più grossa cazzata che possiamo fare, ogni giorno dobbiamo viverlo da protagonisti. Grazie. Grazie a voi.